Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi voglio far vedere questa uva fragola che in direttamente si chiama frambola, che è matura al 100%, è la sua caratteristica avere qualche acido non matura e la sto mettendo qui per farla essiccare, quindi farla diventare un passito, quindi passita, per dopo andarla a mangiare anche a Natale, che adesso siamo a ottobre, la mangeremo, la lasceremo tutto novembre, poi dicembre e gennaio la possiamo gustare, verrà veramente buona perché tutti i succhi si metteranno all'interno e via dicendo, io l'ho appesa qui in questa cosa, qui vedete con la rete qui che così respira, ha una porta e tutto quanto, quando si fa una raccolta di grappoli vengono a togliere tutti gli acini rotti, spaccati, dicendo tipo, vedete questo acino qui bisogna togliere, adesso comunque ho fatto la pulizia però farà una settimana la ricontrollo e niente, la lasciamo qui seccare così e insomma verrà seccata, verrà essiccata in maniera naturale, io adesso faccio questa operazione qua così, vedete che si chiude, adesso si incastra il portello, lo sportello e lo chiudo e rimarrà tutto quanto qui adesso, non fate caso se c'è ancora un po' di ridere ordine, però sto facendo ancora ordine per metterlo a posto, ecco, è un'uva che viene con pochissimi trattamenti, do soltanto zulferame pochissime volte perché comunque è un'uva che è molto resistente a malattie e altre cose perché ha una maturazione molto lenta, quindi è molto resistente e una volta che è stata, come si dice, una volta che è stata, che è arrivata a maturazione si conserva benissimo sulla pianta un bel po' di tempo, però quando è a maturazione al massimo io cosa faccio? Generalmente la mangio così facendo i lavori per la campagna me la mangio così perché è veramente buona, ma se no o la raccogliete così, la mettete qui oppure la prendete, la schiacciate in una pentola, la fate pollire un po', quindi viene fuori un mosto cotto, la fate un po' bollire e dopo la mettete in due o tre bottigliette, la tappate quando è ancora calda e la mettete in cantina e avete il succo d'uva esattamente molto molto buono, ecco, la schiacciate così, i grappoli i quali prendete, li schiacciate in una pentola, tirate via il grappolo e lo fate bollire, il liquido e una volta che è bollito lo filtrate quando è ancora caldo, lo imbottigliate ancora caldo, lo tappate e vi durerà per un anno intero perché è un succo d'uva veramente ottimo, io la metto in questa maniera perché mi piace molto mangiarla, questa qua si può mangiarla a fine pasto, si può mangiarla sgranata così insieme, non so, un po' di panna o anche semplicemente così passita, ecco, perché comunque questo sistema qui fa che l'acino non perde nessun liquido ma si essicchi bene tenendo tutti i succhi all'interno, quindi sarà veramente gustosa anche essiccata, ecco, io adesso qui poi una volta che sarà essiccata vedremo un altro video, vi farò un altro video dove vedremo comunque come sta procedendo l'uva e quando sarà secca e pronta da mangiare, ecco, se volete farlo anche voi, provate, fatelo, io la metto in cantina, voi potete mettere in garage, potete mettere a due volette, magari mettetela riparata da mosche o altre cose, io la metto qui dentro, vedete chiudo qui la porta, adesso vi sto facendo vedere, chiudo questa porta qui a tutta la zanzarina attorno e la resta chiuda, ecco, molto riparata, è molto ventilato, è molto fresco, qui, quando viene fresco è intorno ai 15 gradi, quindi è una cantina veramente, diciamo, abbastanza buona e niente, spero che questo video vi sia stato a tutti e vi ha fatto vedere il consiglio e niente, ciao a tutti amici da Apollo Fiat.